Da cosa è nato il tuo desiderio di partecipare a questo corso? Dalla passione che ho per i vigneti, per i muretti a secco, visto che sono anche entrati nel patrimonio dell'UNESCO. Studiando agraria a Milano, appena ho visto che c'era la possibilità di fare questo corso, ho voluto aderire. È la partecipazione di tanti giovani il dato più significativo e confortante del successo del corso professionale teorico-pratico sui muretti a secco, promosso da PFP Valtellina e Comunità Montana di Sondrio. Obiettivo di fondere anche nelle giovani generazioni la pratica di una tradizione secolare, quella della manutenzione dei muretti a secco dei nostri vigneti terrazzati, una vera arte riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Qui siamo a Montagna in Valtellina. Abbiamo ritenuto prioritario questa tipologia di attività perché mantenere il territorio significa non solo conoscerlo, apprezzarlo, coltivarlo, ma anche mantenerlo nel vero senso della parola. E manca la mano d'opera specializzata nella ricostruzione, nella manutenzione anche straordinaria dei nostri muretti che costituiscono il miglior esempio del paesaggio di questa valle. Per cui formare personale, giovani e meno giovani, che possano conoscere come si opera su questo tipo di interventi è sicuramente un aspetto importante per mantenere il territorio, tutelarlo e fare in modo che negli anni possa proseguire questa manutenzione. Qui facciamo, oltre a formazione, anche un aspetto culturale che nobilita le nostre tradizioni, il nostro modo di pensare e il nostro modo di vivere in montagna. Quando parliamo di cultura, che è bello naturalmente, la fresco, la chiesa, la pittura, l'arte, ma anche questo è un aspetto non indifferente della nostra cultura che va preservata, conservata e tramandata alla generazione futura. È una semplicità costruire il muretto a secco, ma purtroppo con la sua semplicità ci sono anche delle caratteristiche e delle difficoltà da mantenere da poter saper posare i sassi, fare riempimento in modo che si abbia una tenuta costante una tenuta che magari riusciamo anche noi a compensare quello che hanno fatto i nostri antenati. Il primo modulo si è concluso. Dato il grande successo, il corso sarà replicato dal 2 al 6 dicembre.